Sono entrata nel vivo degli sport acquatici, partendo però dal presupposto che in provincia d'Imperia è una sorta di rarità. In mia compagnia Adele, è titolare insieme a suo marito della spiaggia No Stress Team, qua è una spiaggia vivacissima, dinamica, fanno un sacco di sport, complice anche il fatto che suo marito è un pluricampione di windsurf, quindi giocate facile. Comunque, il loro obiettivo era quello di creare proprio uno spazio dedicato ai giovani, in maniera tale che potessero avvicinarsi a uno sport, a uno sport pacifico, no stress. Allora, raccontami un attimo Adele. Allora, guarda, la nostra spiaggia è nata nel 97, con questi sport acquatici, il nostro intento appunto era quello di promuovere tutte queste attività legate al mare, visto che ce l'abbiamo proprio qua di fronte e quindi abbiamo iniziato con questa scuola estiva, con i corsi dove proponiamo giornalmente delle attività quali windsurf, canoa, catamarano, lo stand up paddle, il bodyboard, il surf, in modo che loro appunto sia per un discorso di socializzazione, sia per un discorso proprio di educazione, di sport, imparino a fare questi sport acquatici. Ecco, Adele, volevo chiederti una cosa, quanto è impegnativo garantire questo tipo di servizio? Eh, diciamo che… Anche perché siete pochissimi, quindi ci sarà un motivo. Ci vuole un bel lavoro dietro, comunque io nasco, insomma, vengo da tutto un mio background sportivo, mi sono laureata in scienze motorie sportive, quindi insomma ho costruito insieme ad Andrea appunto a livello tecnico, perché lui ha fatto un sacco di anni di gare, è stato in nazionale, abbiamo cercato di creare questo ambiente che insomma è duro, perché comunque c'è un, tutto un discorso di organizzazione, di programmazione che richiede impegnativo. Lo sport più praticato dai ragazzini? Allora, lo sport più praticato devo dire che probabilmente è il windsurf, perché anche le condizioni che ci sono qua a Bordighera, quindi c'è questa brezza giornaliera che da aprile fino a ottobre ci permette appunto con queste brezze marine, sia la mattina che il pomeriggio, di praticarlo. Il mare non è sempre ovviamente magari piatto, però appunto è riuscita a giocarla, a giocarla bene, eravamo abituati almeno, io ho dato anche l'età, ero abituata agli famosi sport acquatici, vedi bananone, moto d'acqua, sci d'acqua, non ci sono più, la capitaneria ha stretto la morsa sulle regole, sono veramente... Sì, molto, molto. Adesso diciamo che gli sport più accessibili a tutti, che quelli erano, come hai detto tu, possono essere la canoa o lo stand up paddle... Proprio esageri. Bravissima, sono queste tavole che vai in piedi, remando, insomma, che comunque ti permettono di goderti un pochettino il mare. Prima di ripassare la linea, tu adere che sei una super sportiva, non ti mancano un po' questi sport un po' più vivaci, dove l'adrenalina va a mille? Assolutamente, mi mancano, però diciamo che il windsurf fatto qua a Bordighera, anche d'inverno comunque abbiamo delle condizioni un pochino più, diciamo, adrenaliniche. Noi ce lo sfruttiamo durante i nostri mesi invernali, andandoci a allenare magari in altri paesi dove ci sono veramente le onde e il vento per praticare i salti, surfare le onde. Quindi il bananone sono un ricordo, perché non ne stai parlando, quindi l'abbiamo dimenticata. Il bananone l'abbiamo un po' messo da parte.